Musica Quando non si cerca, prima o poi il limite si lascia trovare. Ecco perché abbiamo dovuto spingersi fino al punto di riconcepire da capo un moderno scooter da competizione, partendo proprio dal suo cuore. Ad un anno dalla sua introduzione, il Cutter C1 Malossi si vede affiancare dal suo fratello maggiore, destinato ai motori di più elevata cubatura. Il Cutter C1 è studiato e realizzato per ospitare i nuovi cilindri flangiati da 94 cm3 e il nuovo albero motore dedicato. L'installazione non richiede nessuna modifica, mentre la sede della valvola lamellare ha forma e posizionamenti ideali. La precisione con cui è realizzato il Cutter C1 garantisce prestazioni e rigidità impossibili da ottenere con unità di serie. I nuovi gruppi termici MHR Flanged Mount 70 a 94 cm3 mantengono e innovano la tecnologia Sede Travasi. Il nostro marchio di fabbrica è sinonimo di elevatissime prestazioni e di continuità con le produzioni Malossi passate e future. Grazie al nuovo design dei prigionieri, ora più corti ed esterni, è stato possibile riconcepire le luci molto più ampie e perfettamente raccordate con l'RC1. Tutta nuova, la doppia luce di scarico è ridisegnata per esaltare le prestazioni e ridurre al minimo lo stress per la fascia del pistone. Il coperchio testa è realizzato con materiali pregiati, analizzato rosso e tornito perché anche l'occhio vuole a sua parte. Gli impianti di scarico sono concepiti per dare il massimo in abbinamento con i cilindri MHR Flanged Mount e anche il gruppo di alimentazione è stato adeguato portando il diametro a 21 mm per i cilindri 70 e a 28 mm per i 94. Abbiamo scelto per l'RC1 una lunghezza maggiore rispetto al cutter di serie, soluzione che migliora la stabilità in curva. Per ampliare la libertà di personalizzazione della ciclistica, Malossi ha concepito un nuovo braccio supporto motore molto più rigido e resistente, completamente regolabile e in grado di consentire la variazione delle interasse e dello scopo. Nella nostra storia abbiamo intrapreso percorsi agonistici complessi e molto diversi. Questa nuova gamma di prodotti è il simbolo dello sviluppo presente e futuro di Malossi, del settore degli scooter e della competizione due tempi.